Hai iniziato ad osservare dei cali nella tua memoria? Hai importanti obiettivi e vuoi sentirti al massimo? Ecco le 5 azioni più importanti capaci di far esplodere la tua memoria raggiungendo picchi che non potevi immaginare e non ti preoccupare. Anche se credi di averne persa un po' per strada è sempre tempo di invertire la rotta, se sai come farlo. Ma entriamo nel vivo e vediamo cosa fare. Azione numero 1, mangia grassi saturi ogni giorno. I grassi sono la benzina del tuo cervello e sono il più grande alleato della tua memoria, quello che ti consente immediate performance da campionato. Perché? Perché il cervello è fatto del 70% di grassi che sono responsabili per la fibra mielinica e le connessioni neuronali. Quindi introdurre stabilmente grassi saturi nella tua quotidianità è il miglior presidio a breve e lungo termine. Fai quindi incetta di burro, di ghee, di olio di cocco, di tuorlo d'uovo, di avocado, di pesci, grassi. Azione numero 2, elimina lo zucchero dalla tua vita. Lo zucchero distrugge il tuo cervello e lo manda letteralmente in pappa. Soprattutto se hai un evento importante in cui devi dare il tuo massimo, stanne lontano per una settimana e renderai il doppio. Lo zucchero consuma il tuo corpo, ossida le connessioni neuronali, crea costanti picchi e crolli di attenzione e di umore. A lungo andare, abusare di zucchero è la più importante assicurazione che ti consente di avere senza dubbio grossi cali di memoria. Quindi evitalo. E parlo di tutto lo zucchero, non solo il dolcificante, ma pane, pasta, pizza, biscotti e cereali. Se è con il cervello che ti guadagni da vivere, stanne lontano, liberati di questa dipendenza. Ricordati che è qualcosa di cui puoi diventare libero con la giusta strategia e con 28 giorni del tuo tempo. Azione numero 3. Togli il latte e i derivati e ti sveglierai. Finalmente ti sveglierai. Il latte infatti crea un immediato effetto soporifero, sedante e calmante. Per cui se vuoi sentirti così, molto calmo, un po' instupidito, continua a berlo, ma non ti meravigliare se concentrazione e mente smagliante cadono a picco. Smetti di berlo e oltre al muco, oltre alla pelle, i capelli e il sudore, che avranno miglioramenti su tutti i fronti, vedrai soprattutto il tuo cervello schizzare a livelli che non immaginavi possibili e stai fuori da tutti i derivati, soprattutto quando devi dare il tuo meglio. Una volta ogni tanto non c'è problema, ma se hai bisogno di sentirti al massimo, evitali come la peste o ti addormenterai sul più bello. Azione numero 4. Liberati del caffè. Quella non è memoria, quella si chiama nervosismo, tensione, agitazione infruttuosa e presto o tardi ti tradirà, scatenando l'ossidazione e i radicali liberi. Non è vera presenza e non aiuta la tua memoria, anzi copre soltanto le tue mancanze, creando un apparente tono che non corrisponde affatto alla tua realtà. Meglio farne i conti subito, liberarsi da questa semplice dipendenza e aumentare il vero tono che viene, ricordati, dall'interno. Migliora le tue abitudini a tavola e la qualità del tuo sonno e vai di tonici naturali se proprio li desideri, come il ginseng, la maca, il cacao, ma non cadere nella trappola del caffè. Azione numero 5. Salta la cena e consenti al tuo corpo di rigenerarsi. Ciò che accade di notte è un completo detox di sangue e cellule. Elimini tutto ciò che è usurato e produci nuove cellule staminali a disposizione delle cellule del tuo corpo, un effetto rigenerante che accade solo in presenza di almeno il 30% di sonno profondo e del 25% di sonno REM, il sonno in cui sogni che rigenera il tuo cervello. Se durante la notte non raggiungi almeno queste quote minime, il tuo corpo non è pronto per affrontare la giornata e renderai molto molto meno. Non solo, ma se ceni in modo importante la sera, non raggiungerai nemmeno l'ombra di queste quote di sonno, assolutamente. Il detox notturno ha invece un effetto rigenerante che al mattino ti consente di rendere letteralmente il doppio. Se lo provi, te ne accorgi. Quindi, soprattutto quando devi dare il tuo massimo, salta la cena e anticipala con un piccolo spuntino e vedrai l'effetto al mattino, stenterai a crederci. Metti in atto queste cinque azioni nella settimana e rilassati nel weekend e ritroverai la tua memoria e il tuo focus raggiungerà picchi che non credevi possibili. Ciao.